La Polizia di Stato ha arrestato un 31enne ed un 38enne residenti a Ponte Cagnano-Faiano per coltivazione e fabbricazione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti ed un 60enne residente a Cava dei Tirreni ritenuto responsabile di detenzione illegale di esplosivi. Gli arrestati, tutti già noti alle forze dell'ordine, avevano avviato una coltivazione di marioana con ben 59 piante in un terreno annesso ad un'abitazione in loro uso ad olevano sul Tusciano e possedevano un vero e proprio arsenale di materiale esplosivo. Durante la perquisizione presso l'abitazione sono stati trovati sette involucri sotto vuoto contenenti sostanza stupefacente del tipo marioana per un peso complessivo di 320 grammi nonché un'ulteriore busta contenente la stessa sostanza per il peso di 143 grammi. La successiva perquisizione domiciliare presso l'abitazione in uso al 60enne Cavese, ubicata a poca distanza, ha consentito agli agenti della Polizia di Stato di trovare e sequestrare ulteriori 30 ordini esplosivi pirotecnici non riconosciuti da 100 grammi cada uno e 40 candele romane classificate di quarta categoria scadute ed instabili. Durante le ulteriori perquisizioni domiciliari a carico dei residenti in Ponte Cagnano-Faiano sono stati trovati e sequestrati altri 12 grammi di marioana a casa del primo e 22 grammi presso l'abitazione del secondo. I tre arrestati sono stati condotti presso la locale casa circondariale di Salerno e posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.